Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video da Franci1211 Oggi siamo qua in un video un po' diverso dal solito Perché voglio andare a fare il punto su tutto ciò che sappiamo Sui dispositivi che dovrebbero venire presentati Nell'evento Apple che dovrebbe tenersi a fine marzo Allora, questo evento qua, la data Lickata, non è assolutamente ufficiale È il 31 marzo È stata appunto speculata da alcuni Ma non è ancora sicura Anche se ormai sta diventando sempre più verosimile Aspettiamo solamente che Apple ce lo confermi Ed è un evento in cui verranno presentati un po' di nuovi dispositivi Molto interessanti Forse il più interessante è il nuovo iPhone economico iPhone 9, iPhone SE 2 come lo volete chiamare Di cui andremo a parlare in questo video Il nuovo iPad Pro 2020 con il 5G Che avrà anche un comparto fotocamera molto diverso da quello che conosciamo adesso Quindi faranno sicuramente un altro video per parlare di questo iPad E forse anche gli Apple Tag dei piccoli dispositivi da attaccare ad esempio alle chiavi Che potremmo far suonare in caso non trovassimo più in questo caso appunto le chiavi Ma qualsiasi oggetto a cui le avessimo attaccati E le nuove cuffie Bluetooth AirPod X Generation Il nome non è assolutamente ufficializzato Queste cuffie sono state scoperte Se così possiamo dirlo In una foto che ha fatto letteralmente il giro del mondo Di un inventario di una catena di elettrodomestici americana Penso adesso scusate ho sbagliato Di una catena di elettrodomestici americana Penso che sia americana adesso non mi ricordo Che appunto mostrava nell'inventario questo dispositivo Con un prezzo base di 399 dollari americani Ora andiamo a parlare però degli iPhone 9 Quelli che vedete in questa immagine Il nome dell'iPhone 9 in realtà potrebbe non essere iPhone 9 E' una cosa che anche a me effettivamente mi ha lasciato un po' così Però se ci pensiamo Questo dispositivo sarà un dispositivo molto entry level Molto basico Quindi essendo che la linea base ad esempio degli iPad Si chiama iPad Per questo dispositivo qua potremmo vedere il nome iPhone Semplicemente un nome molto pulito Molto basilare Esattamente come sarà appunto questo dispositivo Non sarà niente di più In termini di design Non sarà niente di più di un iPhone 8 Anche se comunque avremo l'hardware di un iPhone 11 Infatti i prezzi partiranno comunque da più di 400 dollari Ma è un dispositivo abbastanza alla portata Non dico di tutti Ma sicuramente di una parte più grande degli Apple fan Per il design come vedete è molto simile all'iPhone 8 Infatti le scocche dovrebbero venire riciclate dall'iPhone 8 appunto Forse tranne per il logo della mela Che dovrebbe venire spostato al centro come abbiamo già visto Ma proprio per il fatto che i dispositivi Vedranno delle scocche riutilizzate dall'iPhone 8 I colori potrebbero non essere questi Anche se sono stati liccati da qualcuno Mi sembrano anche molto fantasiosi Molto carini Ma potremmo vedere invece questi colori qua Quindi l'argento, il grigio siderale L'oro, anche se in questa foto non lo vedo Potrebbe essere uno dei colori disponibili Forse una versione però da thread come vedete Questo è quindi tutto quello che sappiamo di questi dispositivi Di questo nuovo iPhone 9 iPhone chiamiamolo così E scrivetemi qua sotto nei commenti E anche sopra nelle schede vi lascerò un sondaggio Se secondo voi questo dispositivo qua è un'idea furba Lo comprereste Insomma ditemi qua sotto nei commenti e sopra nelle schede cosa ne pensate Mentre noi ci rivediamo alla prossima Ciao ciao